lo so che non è giovedì lo so che il giovedì è pop talk e il mercoledì non è pop talk però le esigenze dettano dettano così e quindi noi seguiamo le esigenze della vita del quotidiano e siamo anche a 1080 questa è la grande novità di pop talk quindi siamo felicissimi di questi 1080 che non si sa cosa sono dovrebbero essere però 1080 importanti se un numero così alto sarà qualcosa di importante stasera è importantissimo invece il tema di cui parleremo evito già di partire con le mie cazzate e entriamo subito nel vivo di quella che è la tematica che mi sta molto al cuore perché penso si sia parlato tantissimo di war soprattutto nell'ultimo periodo con l'uscita del playstation war 2 c'è stato chi in un primo momento ha detto il peggior lancio di sempre c'è stato chi poi ha corretto il tiro e ha detto in realtà non è poi un lancio così brutto perché ci sono cose interessanti da valutare non è stato fatto il giusto paragone con le tempistiche con le unità a disposizione con quelle che sono state vendute insomma come al solito siamo stati un po impulsivi nel dare la valutazione di come stava andando il playstation war 2 ma non è solo un discorso di war è un discorso di dove sta andando il futuro di dove ci stiamo andando a posizionare facciamo anche un discorso di posizionamento rispetto a quello che sta succedendo nel mondo quindi da un lato le intelligenze artificiali ma dall'altro lato anche il metaverso e quindi stasera ne voglio parlare con tre persone che sono riuscito a mettere insieme in maniera clamorosa sono contentissimo di aver creato questa tavola rotonda dove io centro veramente pochissimo loro invece c'entrano tantissimo quindi vado in ordine perché quando oggi ho annunciato nei miei gruppi nascosti nei soborghi dell'internet principalmente nel mio canale nel mio gruppo telegram che avrei fatto una diretta sulla VR qualcuno mi ha detto ma hai invitato alessandro redaelli di VR Italia ho detto sì sì l'ho invitato e quindi sono felicissimo di dare il benvenuto ad alessandro per primo ciao 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 mario è stata proprio una richiesta espressa mi fa piacere è stata una richiesta espressa e ha detto sì anzi adesso lo chiamo subito ho fatto anche la mossa del caspita me ne ero dimenticato adesso lo chiamo al volo vediamo se stasera è disponibile in realtà no alessandro grazie per essere qui stasera non so quante domande per te probabilmente c'è tanto di cui parlare c'è tanto c'è c'è veramente tanto dalla regia mi scrivono mario in full hd se è bellissimo anche alessandro in full hd però non scherza quindi direi che questi 1080 meritano valgono la pena valgono la pena grande investimento da parte di tiscali grazie mille mamma tiscali passiamo poi al secondo ospite perché sono ancora alessandro non me ne volere ma sono ancora più contento di averlo qui stasera per due motivi in particolare il primo è perché ho seguito negli ultimi anni potrei dire quasi in maniera morbosa quella che è stata l'evoluzione della sua imprenditorialità di tutto quello che ha fatto di volta in volta e poi anche perché è originario del cilento come me e quindi l'ho osservato con una maniera ancora più morbosamente attenta perché ho detto ma guardate il cilento si ha avuto la capacità il cilento alessandro è una zona molto bella molto ridente della provincia di salerno dove ci sono delle spiagge meravigliose incontaminate e si mangia anche molto bene però ha dato i natali a personalità di un certo e caspita non lo so chi stavi per dire però a voi a noi allora va benissimo va benissimo dalla chat suggeriscono estate in cilento beh io l'ho fatto per per 21 anni quindi insomma adesso un po meno da milano però insomma mi difendo vabbè comunque bando alle cianci e do il benvenuto a roberto esposito ciao roberto ciao ragazzi ciao buonasera ciao questa presentazione altisonante ma poi racconterò racconteremo meglio e farò raccontare a te in realtà che cosa stai facendo con il con il metaverso dove stai andando con alterside e tutto quello che ti stai impegnando a fare parliamo anche un po di the rev insomma facciamo una panoramica su tutto e presento quindi anche l'ultimo ospite che non per questo deve essere il meno importante mi è stato assicurato che dal gruppo mondatori mi avrebbero mandato il più grande esperto di war e quindi io mi aspetto che giorgio palmieri stasera mantenga la promessa che mi è stata fatta dal gruppo mondatori per avere il più grande esperto di war io confermo ciao a tutti ragazzi alessandro carissimo alessandro ciao mario ciao a tutti notate non so se guardate le mie lampade blu e rossa sto omaggiando beat saber e quindi spero che vi piaccia questo certo punto le prenderai e inizierai a muoverle esatto esatto benissimo benissimo allora se giorgio ha ricevuto questo endorsement da alessandro direi che siamo tranquillissimi hai già confermato quello che mi era stato promesso direi che possiamo andare scioltissimi in avanti da qui in poi allora io partirei con la domanda che subito ci permette di andare un po a togliere l'elefante dalla stanza questo playstation war 2 è stato un fallimento o in realtà è stato spacciato come fallimento ma non è che stia andando così male non parliamo ancora dell'elemento proprio tecnico dell'hardware partiamo da questo discorso delle vendite capiamo anche un po i problemi alessandro noi due anni fa bolzano era bolzano si era bolzano c'era anche che nobit avevamo fatto un bel discorso su come playstation non si stesse integrando benissimo nel mercato della war e mi sembra che tu se ricordo bene perché dopo due anni abbi pazienza faccio un po di fatica ricordare le parole precise mi avevi elencato ci può stare però avevi elencato ricordo che avevi elencato altri tipi di hardware che stavano riuscendo a offrire un'esperienza non solo più completa ma anche più accessibile dal punto di vista economico assolutamente allora guarda secondo me ci stiamo fasciando la testa un po troppo un po troppo in fretta nel senso che è passato un mese poco più di un mese dal lancio di playstation vr 2 è ancora molto difficile capire come sta andando certo è che sono usciti fuori quei dati quei dati di vendita che non si sa neanche se siano veri è perché poi non sono stati confermati sono sono stati ipotizzati adesso non ricordo esattamente il numero si parlava forse di trecent meno poco meno di 300 mila unità in un mese 270 mila esatto che non si sa se è vero secondo me non è vero ma anche se fosse vero oculus rift ne ha fatti 160 mila in tre mesi e oculus rift adesso è arrivata a meta quest 2 e meta quest 2 ha venduto 20 milioni di unità per cui a me non sembra un lancio così disastroso anche se fosse parliamo comunque di una periferica costosa poi a parer mio vale quello che costa nel senso che ha dentro un hardware ma ne parleremo dopo insomma costa intorno ai 550 costa adesso non ricordo tra i 550 e i 600 550 forse un po più della console poco più della console costa tanto le console non non si trovavano fino a un mese fa perché playstation 5 fino a un mesetto fa era ancora impossibile trovarla adesso si iniziano a trovare la gente non è così abituata alla realtà virtuale insomma ci sono tanti freni rispetto a playstation vr 2 e secondo me è già tanto aver venduto quel numero di pezzi con oltretutto tre esclusive perché poi sono tre tre giochi meravigliosi che sono rise in the whole village gran turismo 7 e horizon call of the mountain ma sono tre su come dire una line up secondo me straordinaria perché la line app di lancio di playstation vr 2 è straordinaria ma viene tutta dal mercato quest dal mercato pc e dal mercato playstation vr 1 i porting diretti a playstation vr 1 quindi è ancora presto secondo me dobbiamo aspettare almeno almeno sei mesi per iniziare a capire è un hardware che però si è dimostrato con dei passi in avanti rispetto a quello che già c'era o sta rincorrendo quello che era già stato un po pubblicato nell'ultimo anno diciamo che fa dei passi in avanti e fa qualche passo indietro qualche fa giusto un paio di passi indietro i passi in avanti sono senza dubbio quel pannello lì cioè quel pannello lì 4k hdr con quella profondità dell'oled non ce l'ha nessun mercato nessun nessun visore sul mercato oggi veramente un visore eccezionale appunto di vista prettamente visivo io lo trovo anche molto comodo però vabbè lì è una questione di di conformazione della testa c'è chi lo trova scomodissimo c'è chi lo trova comodissimo però quello già è un enorme passo avanti ripeto la line up è molto buona e i tre titoli esclusivi sono straordinari quindi anche quello è un passo in avanti soprattutto verso il videogioco vr tripla diciamo che di passo indietro c'è il fatto che siamo ancora collegati a un cavo cosa che iniziavamo a a levarci un po di dosso no col quest col quest due ormai siamo abituati a questo almeno siamo siamo chi utilizza realtà virtuale chi l'ha utilizzata negli ultimi negli ultimi anni siamo abituati a questa fruizione totalmente libera adesso ricco ritornare a essere collegati un cavo insomma fa un po di freno fa un po di freno è vero che se poi come dire sono collegato un cavo ma posso giocare a gran turismo 7 va benissimo il cavo per me cioè va bene così e poi c'è questo ecco questa è una cosa molto tecnica però le lenti del visore hanno uno sweet spot molto piccolo che vuol dire che o lo mettete perfettamente allineato alla pupilla oppure non vedete niente e questa è una problematica da cui ci eravamo un po allontanati negli ultimi anni con coi visori per cui si e no nel senso delle cose le fa molto bene meglio di tutti gli altri delle altre cose le fa un po peggio o diciamo che fa un passo quanto meno di lato giorgio come ti posizioni in questa situazione pensi che il playstation war innanzitutto sei d'accordo con quello che dice alessandro c'è qualcosa dove magari vorresti controbattere e soprattutto per te il playstation war 2 dove si colloca a livello di posizionamento fascia alta fascia bassa a livello di qualità e anche di prestazioni che può offrire allora io sono molto d'accordo con alessandro anzi io vorrei essere anche un pelino più polemico nel senso che quelle notizie che sono sono uscite relative ai dati di vendita sono state troppo approssimative troppo aggressive nei titoli e questo inevitabilmente secondo me un po squat il mercato perché sono state davvero troppo troppo aggressive in relazione a ciò che effettivamente è successo perché poi dopo sono state ritrattate il problema che un minimo di danno è stato fatto e questa cosa c'è più che polemica cioè mi ha dato proprio tristezza perché già la comunicazione di sony di questo playstation vr 2 è stata estremamente deficitaria estremamente ora non dico che dobbiamo farlo noi il lavoro di marketing e di pubblicità o comunque però ecco se cadiamo anche noi in questi errori cioè vogliamo proprio il male di playstation vr 2 quindi dico che sono d'accordo con alessandro e anzi ci sono rimasto molto male per come sono stati trattati questi dati di vendita poi per quanto riguarda dove piazzo questo visore ma io per ora ho giocato un videogioco che si chiama horizon su playstation vr 2 è per ora è la cosa più di nuova generazione che ho visto in generale in tutta diciamo questi ultimi anni di presunta next gen quindi nonostante abbia delle problematiche nonostante non sia proprio un videogioco al top però a livello di inversione a livello di di tecnologia di verticalità mi ha lasciato senza parole quindi ti dico di fascia alta dobbiamo vedere effettivamente i prossimi giochi però fino ad ora le esperienze che ho provato mi hanno lasciato senza parole come il tritico che ha detto alessandro ma anche altre produzioni che purtroppo vengono menzionate poco mi viene in mente the light brigade mi vengono in mente quei capolavori di tetris effect di razzi infinite tutti i videogiochi esperienze che vanno provate se sei un videogiocatore devi provare sì in effetti sì diciamo che forse c'è ancora un po da vincere lo scetticismo generale penso che sul vr ci sia ancora un po di scetticismo forse meno di quando tanti anni fa il mio primo gioco in vr fu town of light quindi parliamo veramente di tanti tanti anni fa forse c'è molto meno scetticismo rispetto a quei tempi lì però un po ancora un po io mario oserei dire che forse ce n'è anche di più in realtà perché è cresciuto col tempo nel senso che nel 2016 quando stavano per essere lanciati rift vibe e playstation vr c'era molto interesse rispetto alla realtà virtuale perché sembrava questo grosso passo in avanti un po però poi è uscito e quando uscito si è rotto qualcosa nel senso che le prime produzioni vr purtroppo soprattutto sul fronte playstation che era poi il visore più accessibile e quindi paradossalmente quello che ha fatto più danni erano molti di quei giochi erano giochi pensati per utenti esperti cioè per utenti che avevano già giocato in realtà virtuale per due anni il problema è che nessuno aveva già giocato in realtà virtuale per due anni perché non c'era per cui quei videogiochi di là tu quasi tutti i videogiochi di lancio o del primo anno di vita di playstation erano videogiochi che facciano venire un sacco di motion sickness e la gente si è attaccata a quella roba lì e non lo sa che poi nei sei anni successivi sono stati implementati vignettatura teleport opzioni di comfort varie eccetera eccetera perché non c'è stata una narrazione rispetto alla realtà virtuale dopo quel grosso lancio là del 2016 per cui secondo me adesso è anche peggio perché adesso bisogna anche combattere i preconcetti che sono radicati nella testa delle persone e su questo sono interessato a far intervenire roberto perché quando lui adesso sai roberto non ricordo il periodo esatto però me lo direi tu adesso ma quando su facebook avevi annunciato il lancio di alterside io un po ci sono rimasto ho detto questa questa è una roba che non mi aspettavo e ci sta che io non me l'aspettassi insomma altrimenti sarebbe stato troppo semplice fare qualcosa che la gente si aspetta perché hai effettivamente avuto l'idea di andare dritto a sprombattuto sul metaverso e offrire dei contenuti che allo stato attuale in italia penso non offra nessun altro correggimi se sbaglio quindi ti chiederei anche di raccontare a noi a chi ci sta ascoltando ma ad alessandro e giorgio anche che cos'è alterside alterside è una startup che è nata un anno fa meno di un anno fa e quindi giovanissima da quel punto di vista anche se poi essendo una startup è un po per definizione che sia così ed è nata proponendosi con una definizione che è più un'ambizione che uno stato dell'arte ovvero una metaverse agency di conseguenza un'agenzia una società di consulenza che serve ad accompagnare i brand le istituzioni e le aziende all'interno del metaverso all'interno di un metaverso che in realtà non esiste quindi non esiste ancora quindi iniziare a portarsi avanti fare un po il passo un po più lungo della gamba e agire d'anticipo perché lavorando con derevo con le altre mie aziende nel settore digitale nel settore tech e soprattutto in ambito b2b quindi con le altre aziende stiamo vedendo un po quello che sta succedendo nelle aziende come si muove il mercato come si muovono gli investimenti interni alle aziende e l'adozione che loro hanno delle tecnologie e le nuove esigenze che nascono e quindi è nata un po l'intuizione di voler portarsi avanti e fare un'agenzia oggi quando ancora in realtà poi all'interno non c'è possiamo quasi dire che non c'è vita quello che è successo però quello che vediamo noi dall'altro lato faccio una premessa io sono il fondatore di un'altra startup che si chiama derev che non è più una startup perché ha quasi dieci anni e derev è nata dieci anni fa come una startup prima per lanciare una piattaforma di crowdfunding la seconda piattaforma di crowdfunding in italia e poi è diventata anche una società di strategia digitale quindi quello che noi facciamo è affiancare i brand nel costruire tutto il loro posizionamento online nel gestire la loro reputazione la loro identità e definire la strategia quindi vuol dire che iniziano un brand a top budget a degli obiettivi nell'anno diversissimi tra di loro perché c'è chi deve vendere online c'è chi deve portare gente fisicamente in uno store o in un ristorante c'è chi invece deve lanciare un album musicale c'è chi deve farsi eleggere alle lezioni quindi target molto diversi costruendo la loro strategia vuol dire che diamo un indirizzo a quello che è il loro budget e soprattutto ascoltiamo quelle che sono le esigenze interne i cambiamenti interni e quindi nel momento in cui le aziende iniziavano a chiederci realtà virtuale realtà aumentata metaverso e a chi fa strategia sostanzialmente la richiesta del cliente è nella strategia che mi progetterai per il prossimo anno mettici anche questa cosa qui non so bene che cos'è non so come funziona non so ancora cosa mi servirà però voglio iniziare a farla voglio iniziare a metterci un piede dentro e quindi l'idea un'altra agenzia avrebbe detto ok io ti faccio la strategia poi troviamo un fornitore che fa vr e affidiamo a lui quel pezzo lì visto che invece è un mercato su cui noi puntiamo molto abbiamo detto facciamo un'azienda noi che sta soltanto quello e oggi infatti sono le altre agenzie di comunicazione di brand reputation che chiamano noi quindi quelli che sono in realtà competitor di the rep chiamano alterside per la parte di br perché i loro clienti vogliono entrare all'interno e concludo il cambiamento che stiamo vedendo noi è un po' quello che io ho visto negli anni passati quando nacquero le web agency per creare i primi siti web dei brand online e quando sono nate le social media agency per portarli poi sui social lì in realtà però è successa una cosa diversa le social media agency sono nate quando i social erano già popolati dagli utenti e quindi i brand dovevano andarci e cercavano qualcuno che ce li portasse di fatto noi abbiamo creato una metaverse agency per portare i brand prima ancora che ci arrivino gli utenti Roberto la cosa che mi incuriosiva anche è che sul sito è indicato che voi siete attivi anche nel mondo offline quindi comunque state costruendo postazioni e kit per la realtà virtuale andate a fornire hardware device quindi supportate anche da questo punto di vista potremmo quasi dire non dico la divulgazione però una sorta di messa a disposizione per aumentare la disponibilità proprio del VR assolutamente sì e per due motivi il primo è che non essendoci diciamo conoscenza del mercato conoscenza del VR non essendoci figure nelle aziende che si occupano di questo se gli dai l'app sviluppata ma non sanno neanche quale visore comprare hai fatto il lavoro a metà li lasci a piedi quindi chi ti chiede questa cosa qui oggi ti chiede un accendamento totale e completo quindi ti chiede la progettazione perché il 90% delle aziende che vengono da noi non vengono dicendo sviluppami un'app in VR che faccia questo o un'app in AR che faccia questo viene da noi dicendo sento parlare di questa cosa qui non so bene a cosa mi servirà studia il mio business sediamoci al tavolino capiamo a cosa mi può servire e progettiamo insieme cosa va fatto e se va sviluppato va fatto in Unity, in Unreal, va fatto per browser, va fatto per VR perché tante aziende che devono dare priorità all'accessibilità e non all'esperienza preferiscono a fare delle esperienze via browser e non delle esperienze VR quindi progettiamo insieme a loro quello che gli può servire poi glielo sviluppiamo una volta che gli è sviluppato se glielo dai non sanno che farsene quindi lo devi mettere sui tuoi server, gli devi dare gli headset gli devi andare fisicamente a configurare gli devi fare il training per utilizzarli e gli devi dare customer care continuativo dove da un lato fai il maintenance del software quindi lo tieni sui server, fai backpixing, lo evolvi e lo gestisci per loro per cui se domani vogliono cambiare un contenuto e tutto il resto glielo gestisci e dall'altro lato gli dai i visori e tutti gli hardware che possono servirgli e anche lì gli fai supporto continuativo quindi pacchetto completo Giorgio, Alessandro, che cosa ve ne sembra di questa narrazione di questo racconto di grande contenuto che per me è assurdo pensare che sia il presente perché per me continua ancora un po' a essere un occhio sul futuro probabilmente lo è però voi che idea vi fate dal punto di vista di tecnici molto più addentro all'ambiente rispetto a me che tocco sempre la superficie e basta della VR Vai Ale Ma rispetto al metaverso intendi Mario? Sì, sì Questa struttura anche il discorso conclusivo del supporto, del customer care da offrire alle aziende del mettere in piedi comunque strutture che permettano poi alle aziende di capire come utilizzare questi strumenti Beh, quello ha perfettamente senso perché effettivamente in pochissimi sanno come puoi utilizzare un visore di realtà virtuale ma pochissimi sanno anche che cos'è un visore di realtà virtuale noi che siamo più o meno nella bolla tutti del videogioco alla fine in qualche modo i videogiocatori e i videogiocatrici lo sanno cos'è un visore l'hanno toccato con mano, l'hanno visto chi non gioca neanche ai videogiochi quindi magari i contesti molto più aziendali come quelli di Roberto effettivamente magari non sanno neanche cosa ci fai con questo visore e quindi questa roba è interessante Rispetto al metaverso anche il metaverso di per sé è un discorso super affascinante anche perché come diceva giustamente Roberto cos'è? Cioè forse non c'è ancora questo metaverso giusto prepararsi perché io sono sicuro che quella roba lì a un certo punto diventerà come dire una parte preponderante della nostra vita magari non domani, magari non tra cinque anni ma a un certo punto sì certo è che bazzicando mi capita sempre più spesso di bazzicare via chat e quello secondo me è un metaverso fatto e finito certo manca ancora come dire una moneta manca ancora un'economia però il sistema di infiniti mondi con infinite persone da ogni parte del mondo che si uniscono vanno a esplorare cose si trovano dentro un bar virtuale vanno in discoteca guardano un film insieme quella roba là effettivamente cioè non puoi rimanere indifferente davanti a questa cosa qui se ci passi due ore dentro e vedi x cose y conosci y persone ti rendi conto di quanto è simile poi nonostante sia un'esperienza virtuale quanto è simile conoscere una persona dal vivo e conoscere una persona dentro un bar virtuale dici ok stiamo andando in una direzione inaspettata in una direzione che bisogna iniziare a capire molto bene e bisogna mettere anche forse la propria bandierina il prima possibile lì dentro Giorgio allora secondo me da ciò che ha detto Roberto o da ciò che ho sentito parlando con varie aziende il problema è proprio alla base ovvero non sappiamo ancora cos'è davvero questo metaverso o meglio lo sanno gli addetti ai vari settori noi ma la gente non sa cos'è il metaverso anzitutto è il primo problema il secondo problema è che è difficile usufruire di questo metaverso perché appunto i visori a realtà virtuale non hanno un enorme mercato si parla tanto di realtà aumentata che sarà il futuro ma io la cosa più next gen che ho provato della realtà aumentata è probabilmente il QR code quando vado in pizzeria diciamo in generale non sento diciamo questo grande coinvolgimento della realtà aumentata anche se se ne parla così tanto la cosa migliore per accedere al metaverso sembra ecco il browser normale ok ma poi tutte le cose che vai a spiegare che si possono fare nel metaverso bene o male le puoi fare diciamo anche senza un metaverso nel senso con Tinder conosci persone con Vinted compri le cose usate non lo so tutte queste cose qui quindi è molto difficile spiegare il metaverso in generale perché c'è molto scetticismo ma anche nelle stesse aziende io ho parlato con Resolution Games che è praticamente un'azienda molto importante all'interno dell'universo in realtà virtuale perché ha realizzato molti dei giochi di successo come Demeo Blaston che sono anche titoli abbastanza forti nell'ambiente competitivo e loro stessi quando io gli ho chiesto ma allora voi con il metaverso loro erano scettici hanno diciamo no non posso dirla questa cosa ma non avevano elogi nei confronti di meta e quindi si sono tirati un po' indietro e hanno deciso di puntare verso il basso con il loro metaverso annunciando questa sorta di tiny verse l'hanno chiamato che non serve altro che a collegare i loro vari giochi ovvero un hub nel quale fondamentalmente si possono raggiungere i loro giochi e quindi fanno community fondamentalmente perché hanno detto secondo me è ancora troppo presto parlare di metaverso quindi benvenga benvengano le aziende come quella di Roberto che stanno che pensano diciamo in grande assolutamente però il grande problema è questo che secondo me dobbiamo diciamo potenziare l'informazione sul metaverso perché c'è veramente tanto scetticismo ma anche proprio ignoranza alla base sì anche perché forse paradossalmente il primo nemico del metaverso è stato proprio Zuckerberg per qualche motivo perché l'ha comunicato troppo presto l'ha comunicato secondo me male e non solo secondo me dato che ha perso e continua a perdere milioni decine centinaia di milioni di dollari a causa del metaverso e notizia di oggi pare secondo alcuni insider che Meta stia decidendo nuovamente di tornare a spingere sul gaming piuttosto che sul metaverso Meta nell'ultimo anno ha lasciato un po' da parte il gaming infatti non sono uscite esclusive di rilievo dopo Resident Evil 4 VR proprio perché loro hanno detto va bene mettiamo un attimo da parte quella roba lì parliamo di metaverso spingiamo Horizon Horizon non ha bucato il mercato loro continuano a perdere soldi per cui forse si sono accorti che hanno fatto il passo un pochino più lungo della gamba in quella visione là un metaverso invece ripeto come VRChat come metaversi più piccoli più contenuti più specifici sono assolutamente possibili oggi è difficile in tempi brevi quella visione là che aveva Zuckerberg e a tal proposito Roberto torno ancora da te perché poi è notizia non di oggi ma comunque di un mese fa circa Disney ha abbandonato il metaverso e ha tagliato anche 7000 dipendenti ora su Disney ci sarebbe da aprire una grandissima parentesi è un'azienda che ancora sta soffrendo la pandemia ha dovuto chiudere i parchi e quindi ha perso quella che è stata la fonte principale di guadagno sta continuando a cercare di recuperare lo sta facendo con una politica molto discutibile sulla produzione di live action e quant'altro insomma sta cercando di mettere insieme tante cose ha chiuso i Disney store e adesso decide quindi dopo aver investito dopo aver deciso di mettere 7000 persone al lavoro sul metaverso decide di chiudere quella divisione adesso si parlava appunto anche dei problemi che sta avendo meta con il metaverso io stesso in realtà qualche settimana fa mi sono ritrovato a ascoltare un'intervista di Jason Rubin che chi è un po' più addentro al mercato del videogioco se lo ricorderà come il fondatore della Naughty Dog attualmente vicepresidente operativo in meta è un po' molto tirato è vero che non può dire molto per gli NDA però è molto tirato nel raccontare che cosa stanno facendo all'interno di meta come se quasi nemmeno lui sapesse che cosa sta accadendo dinanzi a questa situazione quindi è ancora più interessante vedere che tu ti stia spingendo forte sul metaverso però ti sarai fatto una lettura tua di questa situazione del perché Disney abbia preso questa decisione e quant'altro assolutamente sì ed è il motivo per cui noi continuiamo a spingere su quello anzi noi al contrario stiamo assumendo numeri ben diversi chiaramente stiamo assumendo quelli che Disney ha licenziato magari però numeri ben diversi però noi continuiamo a spingere è perché io in questo rivedo un po' i stessi trend che ho visto con altre tecnologie in passato con il web con i social dicevo prima e sostanzialmente quello che vedo è che all'inizio c'è sempre una grossa curiosità perché poi chiaramente viene lanciato viene annunciato diventa un trend mainstream soprattutto B2C quindi la stampa ne parla diventa una parola d'uso quotidiano senza che nessuno abbia mai capito che cos'è e quindi Zuckerberg ha dato in là con il rebranding e concordo sul fatto che l'ha fatto nel momento sbagliato e nel modo sbagliato perché dall'altro lato era un momento in cui doveva risolvere una serie di grane finanziarie e dare una svolta di qualche tipo e via dicendo poi dopo la prima curiosità è un trend e come tutti i trend dopo un po' si sgombiano perché vengono sostituiti da altri trend oggi si parla di chat GPT e tutto il resto che ha già sostituito il metaverso che ha sostituito gli NFT che ha sostituito le cripto e via dicendo poi però cosa succede che nel frattempo quella innovazione anche se se ne parla di meno a livello mainstream è un'innovazione che penetra comunque alcuni ambienti soprattutto quelli aziendali e che inizia a diventare di uso comune io vedo tantissimo la differenza già a distanza di un anno un anno fa quando andavamo in un'azienda sentivano parlare di metaverso perché lo leggevano sul Corriere su Repubblica eccetera ma non avevano neanche forse uno su cento aveva mai indossato un visore nella sua vita in un'azienda quindi andavamo a parlare da aziende che erano loro a chiamare noi perché ne avevano sentito parlare ma senza avere nessuna idea di cosa fosse lo provavano per la prima volta e tantissimi lo trovavano ingombrante invadente perché chiaramente è un device non è come lo smartphone in tasca eppure noi gli dicevamo guarda che come oggi neanche 30 anni fa avresti mai pensato di andare in giro con un pezzo di ferro in tasca tutto il giorno della tua vita i tuoi soldi i tuoi contatti le tue relazioni dipendono da quello sono lì dentro stessa cosa sarà con il visore probabilmente in futuro oggi invece la differenza grossa che noi notiamo e che tanti sanno già concretamente di cosa si parla e tanti lo usano in azienda nel quotidiano ci sono tante aziende con cui noi lavoriamo che oggi hanno un vantaggio aziendale o un risparmio economico dall'usare il VR e la realtà aumentata nel quotidiano in azienda per obiettivi B2B per farvi qualche esempio Pricewaterhouse a Milano fa le selezioni fa i recruitment in VR e abbiamo tante ci ha chiamato Deloitte ci hanno chiamato tante altre aziende per chiederci di sviluppare delle app in VR dove una parte della selezione la fanno all'interno perché fanno una sorta di chiamiamola gamification per misurare le soft skills quindi il problem solving e la precisione la puntualità le scadenze di un candidato quindi parte della selezione la fanno in VR dall'altro lato abbiamo tante aziende che invece vanno in giro per le fiere in tutto il mondo a vendere dei macchinari a vendere prodotti industriali oggetti di design e via dicendo e oggi vanno alle fiere con le brochure sul tavolino e un monitor dietro con un video che scorre dietro dove o c'è il prodotto che gira o c'è lo stabilimento noi a tutte le loro fiere dandogli un headset loro vanno lì e al cliente che passa allo stand anziché fargli vedere la brochure gli fanno indossare il VR gli fanno vedere il prodotto il digital twin che noi riproduciamo pari pari perché loro ci danno proprio i render del device con tutto quello che c'è dentro e noi lo andiamo a riprodurre funzionante e quindi fanno il test e la demo del prodotto e fanno il virtual tour dello stabilimento oppure proprio i commerciali gli agenti che vanno dai clienti a vendere vanno con il visore anziché andare con le slide sul computer così come ce lo chiedono tantissimo il mondo del real estate quindi chi oggi costruisce una casa o ristruttura e tu compri casa su carta guardi un render al computer io puoi render te lo passo in VR e tu entri dentro con l'agente e hai percezione se un corrido è troppo stretto è troppo largo se lì un tavolo ci va bene oppure non ci va e l'altra cosa che facciamo tanto è uno il team building e lì è più gaming eccetera quindi dove i dipendenti fanno gioco di squadra fanno competizione e l'altra cosa sono gli uffici virtuali oggi soprattutto dopo la pandemia gran parte del lavoro o sono persone che sono di smart working o sono riunioni con clienti che sono da remoto e non vengono fisicamente in ufficio quindi facciamo tutto in video call farlo seduti anche dentro workrooms di Horizon quindi allo stesso tavolo ha un impatto e una percezione un tasto di fidelizzazione di confronto totalmente diverso col cliente questo vuol dire che se il cliente compra il 5% compra quel prodotto a una riunione inviare in video call inviarlo compra il triplo quindi ha un impatto di guadagno economico da quel punto di vista e così come infine il training altre aziende ce lo chiedono per il training dei dipendenti dove andiamo a riprodurre inviare il digital queen di un macchinario di un'operazione che devono fare facendola inviare faranno un grosso risparmio perché non devono spendere prototipi spostamenti costi di macchinari e via dicendo quindi ci stanno chiamando davvero in tanti e tutti diversissimi l'ultimo una settimana fa il ministero della cultura per chiederci di poter inviare una serie di musei italiani riproducendo le opere all'interno per renderli navigabili e visitabili senza insomma anche dall'esterno insomma direi che carne al fuoco ce n'è Alessandro però in questa situazione io adesso voglio stuzzicarti perché è vero che Roberto ci ha fatto tutta questa lunghissima lista di possibili declinazioni del voir però adesso io ti chiedo nel 2017 c'è stato chi ha provato a declinare in voir anche il cinema ed è stato ignarito perché con carne e arena lui ha fatto però un'installazione diciamo che tra l'altro aveva esordito la fondazione Prada a Milano sei minuti e non di più secondo te quanto manca al cinema tu che di cinema ne hai fatto per fare il passaggio che non deve essere necessariamente un passaggio definitivo potrebbe anche essere un tentativo un nuovo tipo di genere un passaggio del voir ma guarda io non sono convinto del cinema in realtà virtuale non sono uno di quelli che ci credono così tanto ma per il semplice fatto che il cinema in realtà virtuale paradossalmente va a eliminare parte della grammatica del cinema che è il concetto di inquadratura o vai a declinarlo in un modo molto diverso e secondo me meno interessante la forza del cinema è quella di guidare il tuo sguardo verso un qualcosa la realtà virtuale per sua stessa natura può guidare il tuo sguardo verso qualcosa ma non non in modo così preciso e intimo come lo fa come lo fa il cinema tradizionale è vero che sono stato alla mostra del cinema di Venezia l'anno scorso nella sezione VR ho provato un po' tutto e c'erano delle cose molto interessanti le cose più interessanti però sono quelle interattive sono quelle sono quelle che come dire che prevedono un input anche minimo da parte di chi guarda che sia anche solo spostare lo sguardo che va ad attivare determinate azioni e determinate reazioni appunto allo sguardo o anche solo indicare col controller una risposta o un qualcosa ecco in quelle cose io ci credo moltissimo non a casa su VR Italia ci occupiamo prevalentemente di videogiochi che è la cosa su cui io punto di più in termini di realtà virtuale il cinema secondo me non si adatta così bene non credo si adatterà mai fino a quando tutti non avremo in casa un visore l'altro problema è quello molta roba che c'era a Venezia era anche bella ma poi vista Venezia basta non ha una distribuzione perché meta ogni tanto distribuisce qualche corto qualche documentario però la maggior parte di questi film o li vedi lì o non li vedi mai perché non esiste un mercato distributivo del cinema VR quindi su questo dobbiamo ancora attendere c'è anche chi ci ha provato di gente grossa al di là di Narritu non so c'è Eli Roth che ha fatto ultimamente un paio di corti per meta c'è Rodriguez che ne aveva fatto un altro sono brutti sono brutti perché loro hanno tentato di adattare il linguaggio del cinema al linguaggio della VR invece linguaggio VR un'altra cosa un altro linguaggio va riscritto da zero non bisogna tentare ogni cosa di adattare uno a uno quello che già c'è per cui sul cinema c'è ancora c'è ancora tempo insomma vabbè quindi un film in war non ce lo fai scusa Giorgio no no solo una cosa però aggiungo solo una roba sto lavorando un film che ha dentro la realtà virtuale non è un film in realtà virtuale ma ci sto lavorando però vabbè vai Giorgio scusa volevo dire ad Alessandro se magari se lo ricorda ci fu un gioco che uscì in VR qualche anno fa che si chiamava The Invisible Hours certo te lo ricordi? sì questo gioco era un giallo era fondamentalmente un film che tu vivevi ovviamente in prima persona e potevi viverlo da diversi punti di vista per vedere diciamo chi era il colpevole di questo di questo omicidio quindi tu potevi passare da maggiordomo da varie diciamo da varie angolazioni e viverlo in realtà virtuale quello secondo me è un bel esperimento di cinema quello è interessante è interessante aggiungo una cosa quello secondo me è più vicino al teatro al teatro in realtà virtuale e ti dirò di più a Venezia ho provato una roba meravigliosa che è Type Man che è un'opera adesso non mi ricordo chi è chi è l'autore un giapponese ed è quello è teatro live in VR era fatto in una stanza di warchat si entrava in quattro e c'era un attore dall'altra parte del mondo quindi in questo caso in Giappone che interpretava questa macchina da scrivere antropomorfa che raccontava in qualche modo la nascita e la morte della scrittura su macchina su macchina da scrivere e che in qualche modo integrava anche le risposte i movimenti del pubblico che stava a guardare quell'opera lì ecco quella cosa è molto interessante quella cosa in qualche modo potrebbe anche diventare la rinascita del teatro poi come dire decodificare cos'è cinema cos'è teatro cos'è videogioco inviare è molto difficile però quella direzione là secondo me sì e Invisible Hour è effettivamente una roba interessante da tirare fuori tra l'altro recuperatelo in generale perché è un prodotto figo passato molto inosservato come purtroppo il 90% delle produzioni VR ho recuperato il regista di Type Man perché mi ha incuriosito molto e che è Ito Ito esatto 25 minuti tra l'altro di durata in lingua inglese che non è scontato in realtà non è neanche parlato è tutto è tutto è tutto quasi slapstick quindi non serviva nemmeno indicare la lingua inglese diciamo va bene mi sorprendevo entra nella stanza il problema è che lì ci deve cioè deve essere live per cui devi aspettare che fanno l'esibizione ok quindi però sì in effetti non è una una strana non è una intuizione sbagliata secondo me la tua potrebbe essere un modo per andare a riscrivere tra virgolette il concetto di teatro potrebbe essere uno dei modi per spingere un po' di più quella che forse oggi è la forma di intrattenimento che fa un po' più fatica almeno in Italia perché veramente anche se oddio io in alcune occasioni quest'anno volevo andare a vedere degli spettacoli a teatro e ho trovato il sold out quindi probabilmente è un buon segno potremmo avere una percezione certo era Tony Servillo quindi poteva essere un po' facile gioco facile magari se volevo andare a vedere qualcosa più di nascosto non lo so la centesima riproduzione del gabbiano di Chekhov trovavo un sacco di spazio libero però ecco può essere un metodo per andare a rivedere un po' alcuni alcune regole del teatro o anche di altri aspetti chissà che magari un domani anche i libri non possano trovare una nuova primavera con una nuova grande idea infatti ti dico un'altra cosa molto interessante su MetaQuest è disponibile un'app di cui adesso non ricordo il nome ma che è praticamente tutto Okuto no Ken il manga completo da leggere in realtà virtuale con davanti a te il manga gigante da sfogliare e ogni volta che come dire che è rappresentata una situazione intorno a te sei in quella situazione quindi parti nel deserto senti il rumore delle moto in lontananza le balle di fieno che si muovono intanto leggi sfogli passi in una prigione intorno a te sei dentro una prigione quella roba è molto molto interessante il problema è che costa tipo 300 euro questa però è tutta la collezione di Ken Sheer ed è anche fatta in modo molto molto interessante caspita altro che gli Harry Potter letti da da panno fino qui è un'altra roba diventa veramente una cosa probabilmente riusciremo a vendere un sacco di libri il problema è che ogni libro potrebbe costare 100 euro non più 15 quindi diventerebbe un po' un problema però sono sicuro che Roberto lo suggerirà alle aziende dirà facciamo dei libri dei libri che si possono vivere prima di leggerti però una domanda che arriva dalla chat c'è un'ultima cosa su cui vorrei concentrarmi riguardo Alterside perché è una cosa che mi ha molto interessato che avete pubblicato pochissimi giorni fa sul sito riguarda un po' tutte le applicazioni del metaverso a livello della sanità e addirittura si cita anche gli interventi chirurgici quindi mi appassiona molto il fatto che con un tool VR avete citato anche la George Washington University si vada a lavorare sulla neurochirurgia sulla chirurgia toracica sembra davvero anche qui mi ripeto a costo di sembrare un boomer quale non sono mi sembra davvero di vivere un futuro incredibile un futuro sci-fi che mai mi sarei aspettato e immaginato sì come vi dicevo prima le aziende e tanti soggetti privati stanno già adottando la VR per tante applicazioni una di queste è forte c'è una fortissima richiesta sul mondo sanitario il mondo sanitario ci viene chiesto soprattutto per il training quindi dei studenti di chirurgia eccetera che magari fanno un'operazione su un cadavere e domani la fanno in VR così come ce l'hanno chiesto di recente anche un'università italiana per i studenti di radiologia che devono imparare ad usare i macchinari di radiologia perché se posizionano bene tutto correttamente la lastra è ben visibile e quindi un vero e proprio digital twin di quel macchinario dove in base a quello che tu fai hai una conseguenza hai una lastra più chiara o meno chiara è un risultato migliore oppure no quindi le applicazioni sono tantissime chiaramente ci sono pro e ci sono contro come tutto ed è questa anche la diciamo la spiegazione del metaverso che noi andiamo a dare nelle aziende quando li incontriamo quando insomma ci contatta dalla politica alle università e via dicendo perché dall'attuale c'è molta diffidenza in tanti casi sul fatto di dire io oggi stamattina ero all'università di Napoli a parlare di moda e a parlare di insomma VR e AR per la moda e l'obiezione che mi facevano è sì ma non è mai come provare un vestito dal vivo non lo è neanche comprando su un e-commerce insomma provare un vestito dal vivo infatti proprio perché l'obiezione è non è mai come farlo dal vivo andare a una partita andare a un concerto fare un'esperienza di un evento eccetera quello che noi stiamo provando a spiegare è che si sta verificando lo stesso timore che si verificò negli anni 2000 quando esplose internet e poi con i social media e tutto il resto ovvero esplode internet tutti hanno a casa un computer e il timore è la gente non uscirà più di casa vivrà solo nel computer no la gente troverà un equilibrio per cui alcune cose sarà meglio farle online altre offline stessa cosa succederà ora quello che io provo a spiegare è che noi come persone abbiamo un'unica identità io sono Roberto e oggi noi viviamo però questa identità la definiamo parallelamente in due dimensioni online e offline vuol dire che tutto quello che noi facciamo nel quotidiano lo possiamo fare in due modi se devo fare un bonifico in banca posso farlo sull'internet banking o in filiale se devo comprare un vestito posso farlo sull'e-commerce o al negozio se devo andare a un concerto posso andare allo stadio o guardarlo in streaming ognuna di queste cose ha dei pro e dei contro quindi probabilmente fare un bonifico mi è più comodo farlo online che andare a un concerto non è paragonabile andarlo a vedere di persona ma se il concerto è a Los Angeles lo guardo in streaming è meglio che non guardarlo il metaverso di fatto quello che sarà noi lo raccontiamo con una terza dimensione che si andrà a mettere come ibrida tra le due quindi è un luogo che ci permetterà di fare tutto quello che noi oggi facciamo online ma mediato da un monitor di fatto che sia lo schermo dello smartphone o il computer tutto quello che facciamo online nel modo in cui lo faremo offline quindi con il nostro corpo e chiaramente anche lì tutto quello che facciamo non lo faremo più in due modi ma in tre e anche lì ci saranno dei pro e dei contro comprare un vestito sarà sempre meglio provarlo e toccare il tessuto nel negozio ma sarà meglio farlo inviare che farlo su e-commerce dove vede una foto magari quindi proviamo a raccontarla un po' così nel senso non è come si pensa o il male totale o quello che risolve tutti i problemi è una nuova tecnologia ci darà un terzo modo in cui declinare la nostra identità e vivremo anziché in due mondi in tre e ognuno avrà i suoi pro e i suoi contro quindi ciascuna cosa sarà preferibile più codar e più vantaggiosa più bella a livello di esperienza farla in uno e in un altro modo probabilmente fare un bonifico resterà più comodo farlo online comodamente sull'e-commerce e parlare con un amico resterà più comodo prendersi un caffè live ma se devo chattarci allora almeno lo guardo e ci gioco cambiare insieme Giorgio forse il fatto che il videogioco o comunque l'industria del gaming non stia vivendo questa evoluzione in maniera compatta è proprio perché noi al videogioco non stiamo dando una alternativa fatta e finita stiamo dando un piccolo step in avanti che puoi fare con la VR mi spiego meglio se io oggi gioco Horizon ti gioco e comunque sto vivendo un'esperienza virtuale è un videogioco non lo sto vivendo come se io fossi all'interno di quel mondo ho un controller in mano e faccio le mie esperienze con il VR io ho la possibilità di fare un salto in avanti ma comunque non è quel salto che mi permette di svoltare la mia vita sto facendo molto l'avvocato del diavolo in questo momento perché sto dicendo cose che probabilmente non avrei mai nemmeno pensato però pensi che possa essere questo il vero problema della VR il fatto di non creare un vero e proprio switch non è un turning point eccezionale pazzesco del quale si sentiva davvero bisogno è semplicemente un upgrade che però non ci dà quel qualcosa che ci fa impazzire allora sì la Station VR 2 non è sicuramente quel turning point come l'hai chiamato tu però più per noi che viviamo la realtà virtuale diciamo da tanti anni che per i nuovi secondo me chi prova adesso Horizon e non ha mai provato la realtà virtuale secondo me gli esplode il cervello almeno dal mio punto di vista il problema è convincere le persone a provarlo e convincere a prendere PlayStation 5 che fino a qualche mese fa era impossibile da trovare PlayStation VR 2 era difficile da comprare cioè io stesso ho fatto fatica a comprare PlayStation VR perché bisognava chiedere l'invito su Amazon e non c'era nei negozi cioè quindi anche io stesso ho avuto problemi e poi è stato comunicato male il futuro è incerto perché effettivamente la comunicazione di Sony continua ad essere diciamo deficitaria io ricordo scusa esatto bravo scusa stavo dicendo quella cosa ma gli state of play cioè l'ultimo state of play era stato annunciato con cinque giochi nuovi per quanto riguarda PlayStation VR 2 e io ero gasatissimo ed ero contento che finalmente anche persone insomma che hanno PlayStation 5 ma non hanno PlayStation VR 2 finalmente vedevano delle novità i giochi che sono stati presentati seppur carini non cioè no assolutamente no non andavano bene non avevano quell'impatto magari noi che abbiamo la diciamo la sensibilità di capire certi tipi di prodotti li apprezziamo ma chi è nuovo alla realtà virtuale non li capisce e quindi tutto questo insieme cioè PlayStation VR 2 può essere effettivamente un turning point per diciamo per le persone che entrano nella realtà virtuale però bisogna anzitutto comunicarlo meglio perché è stato un disastro l'ho detto da parte di Sony assolutamente però anche noi ci abbiamo messo un po' intendo creatori di contenuti noi ci abbiamo messo un po' purtroppo con quella cosa lì delle vendite purtroppo perché ha fatto molto rumore io aggiungo che PlayStation non ha mai fatto uno state of play su PlayStation VR 2 cioè non è che era il minimo aspettarsi a almeno due settimane dal lancio uno state of play dedicato con che cos'è il visore l'ha letteralmente lanciato sul mercato senza cioè con due informazioni sul blog perché questo Alessandro incomprensibile c'è un per me è totalmente incomprensibile o non ci credono abbastanza stanno ancora tastando il terreno però insomma PlayStation VR 1 è andata bene nonostante tutto certo gli ultimi due anni non aveva più giochi avevano esaurito le esclusive hanno deciso di lasciarla morire piano piano però insomma cioè col tempo si è creata anche una una line up cioè la line up esclusiva di PlayStation VR 1 è tutt'oggi impressionante da Astro Bot Rescue Mission Resident Evil 7 Firewall Zero Hour Farpoint ci sono dei giochi clamorosi in quella line up che spero che a un certo punto arrivino sotto forma di remaster ed o aggiornamenti gratuiti su PlayStation VR 2 perché sarebbe un peccato mortale con tanto di periferiche sì magari con le periferiche esatto con quella con quella aim controller quella specie di fucile che ovviamente c'ho l'Aden appeso al muro dico una cosa ne stavo parlando di questa cosa con il buon Gabriele di HDblog che saluto a cui non voglio rubare la sua idea lui aveva proposto questa cosa ha detto sai quanto sarebbe bello se lanciassero tipo una PlayStation VR classic esclusiva per i possessori di PlayStation Plus non lo so Premium dove mettono tutti i classici di PlayStation VR rimasterizzati per PlayStation VR 2 sarebbe una cosa fantastica ma lo speriamo spero davvero che arrivi io me l'aspetto perché c'è troppa roba bella che non possono permettersi di buttare via poi ci sono giochi impossibili da adattare penso a Static che era un puzzle di Tarsier che era basato però tutto sul DualShock 4 perché avevi le mani legate dentro un cubo perché avevi in mano il controller in questo caso abbiamo due controller separati quindi quella roba non funzionerebbe però insomma la maggior parte dei giochi si possono adattare o Blood and Truth ad esempio è criminale che non sia ancora arrivato fatto sta che adesso PlayStation rispetto alla sua periferica VR è molto silenziosa non la sta spingendo per niente non si sa non si sa perché magari stanno aspettando di accumulare un po' di esclusive un po' di annunci un po' di roba di ciccia anche perché poi Gran Turismo 7 Resident Evil Village giochi straordinari ma è vero che esistono anche in in flat noi chiamiamo in cerco i giochi non VR quindi l'unica esclusiva vera PlayStation VR 2 è Horizon gioco molto molto figo però insomma uno non è Half-Life Alyx e due ne servono 4 o 5 almeno per vendere forse così bene una periferica certo è che ripeto spezzo ancora una lancia a favore della line-up allargata a prescindere dalle esclusive perché come ha detto Giorgio The Light Brigade e roba di quel livello là cioè erano 33-34 giochi quelli di lancio mi sembra e a parte due o tre mediocre gli altri erano tra l'eccellenza e il capolavoro cioè sono veramente tutti giochi che se non hai mai giocato in rata virtuale entri oggi nel mondo VR ti ricompri tutti e sei contento dove avanti per un anno e mezzo serenamente e aggiungo oltretutto a quello che diceva Giorgio sul vendere i visori il problema è farli provare appunto perché io sai a quanti amici ho fatto provare il Quest 2 cioè messo in testa guardati la demo iniziale messo via dopo 20 minuti aperto Amazon va bene domani mi arriva il Quest 2 almeno 10 ne ho venduti ad amici che conosco personalmente poi ne abbiamo venduti migliaia grazie a Verre Italia però anche solo di persone che conosco personalmente lo provano e poi lo vogliono perché è troppo cioè c'è quello stacco c'è quel turning point e lo sente veramente chiunque il problema è farglielo provare è solo quello servirebbe magari sarebbe bello se Playstation o anche qualsiasi altra azienda facesse non lo so dei totem in alcuni negozi ma guarda fuori dall'Italia tipo in Germania ce ne sono tantissimi in Spagna ce ne sono sbariati in Francia in Italia non ci sono non ci sono da nessuno e questa roba è vergognosa dico però che con l'arrivo del visore Apple che dovrebbe arrivare quest'anno secondo me delle cose cambieranno sì perché diventerà l'oggetto sì esatto diventerà l'oggetto di design che devi per forza avere il nuovo iPhone devi averlo e quindi già tutti quanti inizieranno a dire beh caspita quindi potrei effettivamente farci un pensierino io dovevo una domanda a Roberto in conclusione c'è in realtà una domanda un po' per tutti però parto da Roberto perché dalla regia il buon Luca chiede il problema è faranno in tempo a sviluppare il metaverso prima che collassi beh la questione di più che altro è che cosa sarà questo metaverso perché inizialmente si parlava di un metaverso unico globale a cui tutti i piccoli metaversi attuali convergeranno e che per definizione per la definizione storica di metaverso deve essere interoperabile deve essere basato su blockchain con un'unica moneta all'interno eccetera e quindi se già pensiamo tutto quello che fa Meta a meno che non rinunci alla proprietà delle sue piattaforme di Horizon Works e la metta su blockchain la vedo complicato quindi la vedo complicata quindi bisognerà capire un po' cosa sarà questo fantomatico metaverso per ora appunto tanti si stanno costando i loro piccoli metaversi quindi anche i clienti che vengono da noi non vanno sui metaversi esistenti ma creano un ambiente in VR o anche accessibile via browser privato che tengono sui server dove fanno le loro attività fanno le loro aule per fare formazione i loro ampiteatri e via dicendo non non rientrano in nessun metaverso e quindi di fatto sono accessibili tramite loro ma non sono aperti a chiunque che magari è in un posto e da lì salta in un altro quindi bisognerà capire cosa sarà questo metaverso quando diventerà mainstream in qualche modo se da un lato oggi tutte le aziende lo adottano c'è un grande vantaggio io sposo in pieno quello che diceva Alessandro cioè il fatto che in conto è sentirne parlare un conto indossare un Quest 2 tutti quelli che ho incontrato anche io sentono parlare perché lo vedono e quando noi andiamo ai primi appuntamenti con i clienti ci portiamo un Quest 2 e io lo facciamo indossare e fanno il banale tutorial i first steps per iniziare a toccare il cubo e lanciare l'aeroplano di carta e quello glielo vendi gli vendi poi sviluppare l'applicazione perché si compra anche il Quest buon per meta tra l'altro i nostri visori ce li fornisce meta e li compriamo in blocco da loro e il bello è che Meta Italia non è preparata quindi li dobbiamo comprare da Meta Francia e Meta UK perché li abbiamo comprati a ordine di 25 e ne abbiamo comprati 2500 e non li avevano quindi è complicato e sicuramente operazioni come quella di Playstation o come qualche altra sono utilissime a renderlo un po' più mainstream perché lo fanno conoscere al grande pubblico e lo fanno provare al grande pubblico poi dall'altro lato che lo provino anche i dipendenti delle aziende vanno a casa e se lo comprano anche per il privato ben venga però non può essere l'azienda il volano che apre il mercato consumer chiaro chiaro è particolare il fatto che dobbiate andarli a prendere da Meta fuori dall'Italia sintomo che davvero anche l'azienda stessa in qualche modo non dico soffre però insomma forse in Italia ha visto che c'è proprio il mercato italiano potrei dire che ha dei problemi importanti che guaio ragazzi alla fine gira che ti rigira finiamo finiamo sempre lì i problemi quando guardiamo le classifiche dei giochi più venduti sono sempre sono sempre quelli perché siamo un paese di tradizionalisti cioè il vero problema è quello quindi figurati la VR cioè quando prenderà veramente piede qua però su questo io sono fiducioso aggiungo solo questo sono fiducioso perché è una dinamica che ho già vissuto dieci anni fa col crowdfunding quando dieci anni fa io lanciai una delle prime piattaforme di crowdfunding in Italia andiamo dall'azienda dai politici dalle organizzazioni a dire venite a noi a lanciare una campagna di crowdfunding la gente in alcuni casi si offendeva cioè il politico ti rispondeva io non faccio l'elemosina né tantomeno vengo a farla pubblicamente online davanti a tutti perché è una cosa disdicevole poi successe che a Napoli città della scienza che era un museo tecnologico fu incendiato dalla Camorra e noi creavamo una start-up neocostituita con la piattaforma di crowdfunding lanciamo una campagna di raccolta fondi e raccogliamo un milione e 600 mila euro la campagna di reward crowdfunding più grande d'Italia a quei tempi e allora dissero ah cazzo allora non è quello che passa per Stade mi lascia due euro nel cappello e due anni dopo ci chiamano la Consob per dire regolamentiamo il crowdfunding per le PMI per le start-up e oggi è uno strumento nella rosa se vai dal commercialista il commercialista dice chiediamo il prestito in banca andiamo dall'investitore o facciamo equity crowdfunding quindi è uno strumento di largo consumo adottato da chiunque lo fanno le banche lo fanno le aziende ci sono avuti dieci anni e dieci anni dove chi fa innovazione e chi fa start-up non entra in un mercato che esiste e dice ok io conquisto questo mercato ma io entro in un mercato che non esiste e contribuisco a crearlo quindi non vai a vendere vai a divulgare non vai insomma vai a spiegare che cos'è per poi venderglielo anziché andare a vendere una cosa che è già un bisogno quindi sono molto fiducioso che avvenga anche qui perché qui vedo in realtà una velocità e comunque un impatto uno switch quando indossi il visore è molto più grande rispetto ad allora e rispetto alle altre piattaforme quindi secondo me insomma vale la pena continuare a investirci e lo faccio io come ci busco i soldi giorno per giorno tra stipendi e investimenti vari quindi insomma ci credo abbastanza crediamoci anche noi a questo punto e il suggerimento arriva sempre dalla regia fare un code in VR sarebbe un ottimo passo in avanti forse per smuovere il mercato italiano a quel punto mi immagino che tutti quanti vorranno acquistare il VR per giocare a Call of Duty in qualche modo mi permetto di lanciarvi un consiglietto Breachers uscito tre giorni fa è praticamente Rainbow Six Siege in realtà virtuale incredibile incredibile quindi già c'è qualcosa le persone appassionate di come dire FPS multiplayer tattici un pochino più però ci sono anche lo stesso Pavlov su PlayStation VR 2 è un ottimo titolo alla Call of Duty quindi se state cercando un Call of Duty in VR giocate Pavlov secondo me ci vuole il brand però ragazzi ci vuole davvero Call of Duty ci vuole il nome certo ci vuole il nome ci vuole il nome e il fondo suggerisce anche un FIFA un FIFA in VR ho paura onestamente più complicato però ce n'è uno molto bello di parate solo di parate ovviamente bellissimo bellissimo ti devi lanciare mi sembra un ottimo modo per allenarsi quindi generazioni di portieri generazioni di portieri in Italia da domani in poi solo portieri ragazzi vi ringrazio moltissimo ho imparato tanto spero sia stato un momento di grande apprendimento per tutti quanti voi la cosa bella di Pop Talk è che alterno una settimana in cui ci dedichiamo a temi aulici importanti questo era il tema aulico del palinzesto e poi la settimana prossima torneremo a fare gli imbecilli parlando di Peter Pan e Wendy quindi parleremo di live action Disney quindi questa è la cosa bella alterniamo le cose serie alle cose un po' così non voglio dire inutili ma vabbè soprassediamo su queste mie divagazioni contro Peter Pan che è sempre un ottimo sport il mio vi ringrazio ancora tantissimo è stata un'ora per me molto molto interessante confidiamo che VR e Metaverse non siano il futuro ma siano il presente per un attimo avete temuto che dicessi non sia il futuro e speriamo che se ne vadano a quel paese vorrei che andassero sempre più più forti non ho ancora acquistato un Playstation VR 2 probabilmente lo acquisterò quando effettivamente diventerà non dico accessibile ma comunque con un parco giochi molto più ricco di quello che c'è adesso perché anche il primo alla fine lo acquistai quando c'era davvero tanta più roba da giocare non all'inizio aspettai un po' però confido nel fatto che ci possa essere una buona spinta e confido anche nel fatto che il metaverso possa andare a ottenere quel turning point che abbiamo iniziato a nominare nell'ultima mezz'ora di questa diretta perché mi piacerebbe insomma provare quell'esperienza che quando uscì Second Life non ho vissuto perché non mi attirava tantissimo forse non avevo ancora l'età giusta per farmi incuriosire adesso forse il livello di brand di aziende importanti che possono spingere si può fare tanto e mi incuriosisce ancora di più il discorso legato alla sanità ma anche il discorso legato alla moda e tantissimi altri aspetti che possono trasformare un e-commerce in qualcosa di più tangibile più reale più vicino di premere dei tasti su un sito su un browser e quant'altro quindi la mia speranza il mio augurio è quello che possa tutto trasformarsi in qualcosa di di reale e tangibile vi ringrazio ancora fate di nuovo questo messaggio importantissimo fate iscrivere gente a VAR Italia sponsorizziamo questi ragazzi che fanno un lavoro incredibile che ci sta sempre bene ovviamente facciamo anche un endorsement Giorgio l'hai già avuto l'endorsement da Alessandro però te lo rifacciamo va benissimo così tutti su smart word a informarci di VAR di tecnologia e quant'altro e ovviamente teniamo tutti d'occhio con grande attenzione al third side anche The Reb che però non ha bisogno di essere tenuta d'occhio Roberto vi pazienza The Reb oramai ha bisogno della nostra attenzione direi che insomma spicca il volo da anni quindi però la teniamo comunque d'occhio io almeno personalmente la tengo sempre d'occhio vi ringrazio ancora tantissimo vi auguro una buona serata e a tutti quanti gli altri do appuntamento la settimana prossima grazie Mario grazie a tutti grazie a voi ciao a tutti